abbiamo avuto la fase degli accordi che si è conclusa ieri sera e vorremmo adesso affrontare un po' quello che ci rimane di questi ultimi 5-6 giorni perché si voterà poi nella giornata di domenica e anche poi quella di lunedì fino alle 15 poi sapremo che è il sindaco di regaranti noi abbiamo in linea telefonica siamo anche in diretta ve lo dico facebook e oltre che sul streaming abbiamo e quindi ci potete seguire anche in video abbiamo in diretta Stefano Micini Stefano Micini che è candidato nella coalizione progetto civico che portava appunto Francesco Fiordomo come sindaco di Re Canati intanto lo saluto Micini buona serata buonasera a stereo buonasera a tutti degli spettatori ecco tu eri uniti per Francesco Francesco Fiordomo sindaco sì esatto sostanzialmente un po' la stessa lista che 5 anni fa aveva appoggiato la candidatura di Antonio Gravi e poi ho fatto questa poi all'epoca fatta questa scelta di entrare nel progetto civico di Francesco Fiordomo e quindi appoggiare Fiordomo ha avuto modo di in una piacevole anche ghiacchierata di mezz'ora no affrontare questo questa tua scelta e i motivi di questa tua condivisione di questo progetto e abbiamo parlato anche di alcuni punti del programma di questa coalizione adesso ti ritrovi ad essere un soggetto diciamo così frutto di questo accordo perché intanto volevo sapere una cosa il risultato elettorale te lo aspettavi? allora diciamo che sai come tutti quanti quando affronti diciamo in un certo modo una competizione no speri sempre di raggiungere il massimo livello effettivamente questo questa volta non si è verificato diciamo perlomeno non è stato migliore di quello che avevo fatto precedentemente però nello stesso tempo la nostra lista ha avuto diciamo un buon risultato e quindi abbiamo notato io ero appunto presente anche allo spoglio quindi in un seggio dove ero rappresentante di lista e abbiamo notato anche diverse diciamo preferenze non specifiche personali ma alla nostra lista quindi stabilire se poi il risultato diciamo è che ti devo dire diciamo che sostanzialmente io mi ritengo abbastanza contento di quello che ho raggiunto certo si poteva fare di più però poi è chiaro che anche in questa situazione che si è venuti a creare è normale che magari qualcuno un po' anche con tutti i parecchie liste che c'erano diciamo in competizione siano quelle nostre quelle del candidato bravi sia quelli di di pepa è chiaro che magari qualcuno ecco ha preferito andare sul sicuro quindi maria messo solo la croce non ha scritto di fatto forse quello ecco l'ho notato in più casi non solo nel mio caso ma anche in altri diciamo sia concorrenti che compagni insomma e se preferito mettere per non sbagliare diciamo usire la croce solo sul candidato io ho notato questo però questo non è che va a giustificare il risultato era solo per dire quello che diciamo io ho notato appunto perché ero presente lì allo spoglio quindi posso dire questa cosa insomma ecco ecco raggiunto questo risultato io penso che la persona più amareggiata di questo sarà stato appunto francesco verdomo che sperava magari non di vincere al primo turno ma almeno di arrivare al balottaggio e questo sarebbe stata già un'altra storia no poi bisognerà poi bisognava anche vedere con quale tipo di percentuale uno arriva al balottaggio quello che ha indotto la lista la coalizione progetto civico con la coalizione centrosinistra a trovare un accordo è stato proprio penso questo testa a testa delle risultate elettorali che diciamo così divisi soltanto un 200 voti circa ecco quindi su questa cosa vicina un attimino al di là le diciamo se mi permetti della cattiveria gratuita no che abbiamo notato anche si socia che purtroppo oggi è uno strumento che viene utilizzato da tutti compreso dal sottoscritto per carità di dio però è chiaro che qui non si tratta di 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 pretendere no ecco il fatto di ho visto poltrone o diciamo ecco perché il candidato fiordomo magari no prende qui prende la non è una questione di pretesa la questione di rappresentanza ce ne sostanzialmente ritengo che comunque il nostro pur per un risultato perdente rispetto a quello di i bravi è stato un ottimo risultato perché con uno scarto di poco più di 200 voti adesso grossomodo circa 200 volessi credo che comunque in ogni caso sia sempre un buon risultato per quello che è stato che era una nostra una coalizione dove praticamente non esistevano partiti politici e quindi ovviamente solo e scusamente di vista civico su questo ecco credo che sia basilare ricordarlo insomma ecco quindi non è una questione ripeto che se ne fa perché magari uno vuole pretende questo quell'altro la questione di rappresentanza quindi ecco un po su questo aspetto certo ecco questo accordo ti soddisfa stefano anche perché tu rientreresti nel buon ora se dovesse vincere bravi la questione è questa che ehm come credo i cittadini sanno eh durante la la scorsa settimana diciamo il Antonio Bravi ha eh chiamato appunto Francesco Fiordomo per cercare di in un certo qual modo trovare no un accordo un accordo che ci poteva portare a eh affrontare il ballottaggio quindi a diciamo affrontare l'altro candidato forte perché comunque Peppa ha preso eh diciamo un bel numero di voti quindi è chiaro che eh occorreva diciamo ecco in un certo qual modo trovare eh un diciamo si diciamo così come scusa intesi un'unione in qualche un'unione al fine no di cercare di di perlomeno di di provarci insomma ecco è chiaro che nel momento in cui inizia una trattativa eh sotto questo aspetto è come più o meno quando non voglio dire paragonarla a un discorso di mercato no però in un certo qual modo è sempre una contrattazione quindi che cosa è successo che eh noi abbiamo fatto la nostra proposta iniziale la proposta iniziale era quella di un apparentamento di tutte le sei liste nostre di progetto civico e questo ovviamente questo apparentamento portava in un certo qual modo a ehm avere diciamo la coalizione di di bravi di meno eh mi sembrano quattro che erano se da puntita tecnico meno eh quattro consiglieri in meno della loro della loro coalizione nella quale eh due tra l'altro andavano a finire per una questione tecnica al candidato dell'opposizione quindi in un certo qual modo eh perdevano diciamo ecco un congruo di di eh di consiglieri eh noi su questa cosa ci abbiamo un attimino eh insistito eh per lo scopo che ti dicevo prima perché comunque bevo male riteniamo che il nostro progetto civico aveva diciamo tutti le cartiregola per cercare un attimino di non dico di pretendere ma di di portare in un attimino ecco un po' di peso a questa diciamo a questa eh gara come possiamo chiamarla insomma ecco ehm ovviamente ehm c'è stato un susseguirsi di incontri chiamate eccetera però poi diciamo che nel l'ultimo nel fine settimana quindi parliamo di di sabato eh di fatto poi non è che sia arrivati a una conclusione o perlomeno eh non ehm diciamo ecco la coalizione bravi non eh non accettava questo tipo di di ragionamento e di conseguenza anche noi ci siamo riuniti e eh ovviamente siamo messi in attimino su sul ci siamo fermati insomma e con i ragionamenti perché pensavamo che comunque per noi era l'unica strada eh e quindi ecco si siamo messi in attesa di eventualmente vedere se dall'altra parte arrivava qualche altro segnale eccetera eh il segnale di fatto è arrivato eh forse un po' tardi ma comunque è arrivato eh dalla parte di coalizione di di Antonio Ibravi è arrivata una sorta di controproposta no a quello che era all'iniziale nostra proposta e che ovviamente eh la si è valutata eh non nascondo che la no che nella nostra coalizione qualcuno giustamente sosteneva che eh era molto più riduttiva rispetto a quella che era la nostra iniziale però diciamo mh quando si è in molti eh bisogna purtroppo prendere una decisione che va per la maggioranza perché se poi chiaro eh sentiamo a tutti quanti ma eh non se ne fa non c'è non non se ne viene a capo no quindi ovviamente al momento in cui si riprende la decisione che sia poi una coalizione o una associazione o o diciamo eh o una un'associazione o quello che sia è chiaro che quando si prende la decisione si va per maggioranza quindi diciamo che la maggioranza eh ha accettato questa contro ha accettato perlomeno ha eh in un certo qual modo ehm preso in considerazione questa questa controproposta che la controproposta sostanzialmente è un pochettino diversa cioè cosa significa? Significa che Antonio Milavi ci chiede di ehm ci chiede scusa il telefono che ci chiede di eh fare l'apparentamento con eh due sulle liste non più sei e con questo l'apparentamento con due liste che praticamente ci chiede per la lista dove ero inserito io e quindi uniti per Francesco Firdamo sindaco e eh paese mio ovviamente ehm che cosa succede? Questo porta a una diversa composizione del consiglio comunale in quanto eh fa recuperare due consiglieri a diciamo a Antonio Bravi e quindi non vengono ceduti alla diciamo all'opposizione e nello stesso tempo fa entrare due dei nostri quindi uno appunto di eh di di paese mio e uno appunto quella dove sono inseriti io che molto probabilmente se appunto ecco c'è eh la vittoria sicuramente sarò io insomma quello che eh sarà il rappresentante della nostra lista in quanto è sono l'unico che ha preso per poco ma diciamo ecco più voti di tutta la lista e nello stesso tempo eh che cosa ovviamente la nostra coalizione chiede comunque che eh un posto di rilievo per un posto adesso sbagliato dire un posto comunque diciamo un incarico no ecco di rilievo per il nostro candidato sindaco Francesco Firdomo e quindi si è chiesto di eh si è chiesto la eh la 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 presidenza del consiglio del consiglio comunale e questa ripeto non è una questione di poltrona perché ecco il consigliere il consiglio il presidente del consiglio è stipendiato che sia è una questione legata al fatto di rappresentanza come dicevamo prima e nello stesso tempo anche eh un un assessorato che eh nella stesura finale di ieri sera eh si è diciamo fatto si è fatta la scelta per l'assessorato dei lavori pubblici però ovviamente in questo caso non c'è momentaneamente una persona anche perché ripeto prima dobbiamo affrontare il vallottaggio poi eventualmente questo sarà una cosa da decidere dopo e ovviamente la persona che poi andrà a ricoprire questo incarico ovviamente sarà eh nominata dalla nostra coalizione insomma ecco beh perché si faceva il nome di Massimiliano Gruffi correva questo? No nell'accordo non c'è nessun nome non c'è nessun nome c'è nessun nome c'è solo c'è solo sostanzialmente ripeto la eh la disponibilità di Antonio Bravi a diciamo ma è tra questi incarichi di un assessorato che ritengo per un comune come quello dei raggi soprattutto adesso no che ci sono anche no diversi cantieri e per tutto quello che ci sarà da fare perché c'è tanto da fare si ha anche un un assessorato di non poco rilievo insomma ecco quindi ritengo che sia una cosa abbastanza eh importante e quindi questo è un pochettino eh quello che è stato siglato è stato siglato ieri sera a notte non lo diciamo ecco eh a pochi minuti della mezzanotte diciamo pochi un po' prima ma con diciamo ecco della della chiusura definitiva prevista per legge insomma ecco è stato fatto su scambi termine alla presenza ovviamente del segretario comunale di diciamo ecco di tutti quelli che è ovviamente poi è stato anche sottoscritto una sorta di dichiarazione di intenti che adesso qui non sto a dire anche perché sono aspetti un pochettino più più delicati che non non ritengo siano sia importante insomma menzionali qua ecco tutto qui dichiarazione di intenti sul programma oppure si diciamo ecco in un certo modo è stato inserito anche no alcuni aspetti del nostro programma perché comunque vuoi dire nel momento in cui si condivide un percorso è anche un po' condiviso è il nostro il nostro progetto ecco quindi questo è l'aspetto però il calcolo è stato fatto abbastanza bene in maniera intelligente sotto certi aspetti perché la maggioranza qualora vincesse bravi e sarebbe non di 10 ma di 12 consiglieri in definitiva esatto perché c'è da sommare poi anche i due che hanno diritto perché entrano di vivere le canali che appunto uno è a fare il presidente consiglio quindi esatto esatto quindi ecco questo ha servito anche un pochettino per cercare di non regalare niente all'opposizione in un certo qual modo e cercare di preservare un pochettino la rappresentanza nostra e anche quella delle liste di bravi perché tanto purtroppo questo è insomma ecco ecco stefano ti ringrazio perché è stato molto chiaro e onesto e corretto nel definire sì questo accordo cioè nell'illustrare questo accordo perché generalmente si si ferma l'apparentamento e poi non si va oltre invece giusto magari che anche ripeto le difficoltà ci sono state perché come possiamo come abbiamo già prima detto prima è normale che eravamo noi più indietro perché quindi noi siamo in un certo qual modo quelli che ha perso no diciamo però allo stesso tempo come dicevi anche te vuoi dire avevamo un risultato di tutto tutto rispetto quindi è chiaro che forse la trattativa è andata un pochettino più eh con qualche difficoltà in più in quanto principalmente per questo motivo no per quello che è apparso no ecco nei vari comunicati nei post eccetera per una questione di di siamo definiti poltronari eccetera non è assolutamente questo tipo di racionamento poi ognuno può pensare dire quello che vuole perché grazie a dio ancora c'è in italia c'è la libertà di pensiero quindi io non metto a condannare però ecco stiamo stiamo attenti soprattutto con i social a fare dichiarazioni particolari perché a volte si arriva pure a all'offesa no su certi aspetti quindi a andare a toccare la questione personale quando che eh diciamo eh in democrazia questa cosa non dovrebbe venire insomma ecco permettimi di fare questo passaggio insomma certo senti parlando con nino da dei che sembra che da questa corda sono si sa se rimarrà fuori oppure meno comunque poi dopo ci sono tante altre possibilità attraverso le partecipate o altro di poter soddisfare un po anche coloro che si sono eh impegnati in campagna elettorale nel progetto no volevo sapere ehm parlando con montadei ehm mi ha detto ehm che ehm il risultato elettorale è frutto anche di un nostro errore cioè di forse di non avere comunicato bene alla gente quello che ehm era il progetto civico ma ehm tu pensi che sia stato un difetto di comunicazione? che la gente che la gente non ha capito oppure perché diciamoci francamente c'erano tre pezzi da novanta? Eh però io credo più la seconda ipotesi che la prima poi non 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 è che non condivido l'idea di di Nino però è chiaro che nel momento in cui Pronto? Tu no ci sono eh tre pezzi novanta è chiaro che eh a volte rimane difficile fare anche una buona comunicazione eh eh chiaro che eh qualcosa eh è successo no perché comunque ehm sicuramente qualcosa andava fatto meglio questo non non si discute eh però adesso andare alla ricerca del del problema così ancora eh in un momento ancora diciamo non completamente definito eh ecco trovo anche un po' di difficoltà ripeto non 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 e possiamo fare un appello elettorale visto che la gente al secondo turno ci andrà eh in mezzo alla calura perché dicono che c'è l'alta pressione africana in quel periodo ma guarda io invito tutti i cittadini ad andare a votare perché votare è un nostro diritto ma è anche un nostro dovere è l'unica diciamo se possiamo chiamarla in tra virgolette l'unica arma che abbiamo no? da poter utilizzare contro non contro per far valere diciamo i nostri eh i nostri diritti ehm come frase finale mi viene questa dice nel senso che io sono per la democrazia per rispetto delle idee che questo anche altrui eh per il rispetto delle persone eh non credo che mi avete mai sentito parlare male di nessun candidato a livello personale perché ritengo che tutti e tre abbiano eh delle caratteristiche di tutto rispetto eh e quindi che vinca il migliore questa è la cosa principale benissimo e il migliore lo decreta il popolo che non sempre ha ragione però eh la nostra costituzione dal popolo questo prevede questo prevede appunto ed è giusto così è giusto sì sì assolutamente perché ora scusa che il popolo a volte non ha ragione dopo eh deleghiamo ad altri le scelte e dopo magari ci troviamo insoddisfatti del almeno questa teniamola per noi ehm in maniera determinata insomma ecco questa storia di che potevo che possiamo ancora diciamo stabilire noi chi è che ci può amministrarli soprattutto nella nostra città dove viviamo grazie amicini grazie a te grazie alla vostra radio e a tutti i telespettatori grazie ciao ci vediamo arrivederci